Amici di Gcase buongiorno, oggi vi dovete accontentare soltanto di questa fotografia perché abbiamo preso in anteprima per voi un bilocale veramente molto grande, molto ampio, arredato e con questo giardino incredibile che abbraccia tutto il lago di Zeo con Montisola davanti, un giardino in piano ed è per voi, per quelli che cercano un appartamento con una grande parte esterna senza piscina, quindi con spese condominiali molto contenute e con la tranquillità a fare da padrona sempre e comunque è in anteprima per voi, potete vederlo prima che vada su tutti i portali immobiliari da lunedì 20 a domenica 26 Su appuntamento scrivetemi su whatsapp al numero 320 033 4332 o mandandomi un'email a info-gcasi.it Sono sempre qui per voi, a presto, ciao a tutti da Stefano e da tutto lo staff di Gcase Grazie a tutti